Novità da Ballando con le stelle. La prossima puntata di Ballando con le stelle si preannuncia particolarmente avvincente, in quanto si avvierà con uno spareggio che coinvolgerà Anna Luca Stoldi, Francesco Paola Antoni e Sonia Bruganelli, a causa dell'impossibilità di procedere nell'ultima puntata. Durante un intervento su Uno Mattina, Anna Lu ha rivelato al microfono di Massimiliano Ossini, è nato un amore, suscitando curiosità. La conduttrice Daniela Ferolla ha chiesto ulteriori dettagli, insinuando che potesse trattarsi di un amore per la danza, ma la giovane ha sorriso in modo enigmatico, lasciando aperta la possibilità di una romantica connessione con il suo maestro di ballo. Nikita Perotti. Preparazioni allo spareggio.il duetto alla ribalta. Nikita Perotti e Anna Lu hanno partecipato alla trasmissione Uno Mattina per discutere della loro esperienza a Ballando con le stelle e per rassicurare i supporter riguardo alla loro preparazione per lo spareggio. Anna Lu ha condiviso di essere in un processo di profonda trasformazione emotiva, notando che l'esperienza del programma le fornirà spunti di riflessione futuri. Ha anche rivelato di non avere un formazione pregressa nel ballo, ma di aver trovato immediatamente una connessione con Nikita. Tale relazione ha fatto nascere speculazioni su una possibile storia d'amore tra i due, poggiando su indizi rivelatori. Durante quest'edizione, l'amore sembra permeare la pista, un'osservazione fatta anche da Rossella Erra, mentre Millie Carlucci sta tentando di mantenere in gara Francesco Paolo Antoni, attualmente infortunato. Discussione sulla giuria. Le dichiarazioni di Rossella Erra. Nel corso della trasmissione, Rossella Erra ha espresso il suo dissenso riguardo alla decisione di procedere con lo spareggio, affermando di ritenere che il suo team non lo meritasse. Ha sottolineato che l'ascesa in classifica era dovuta principalmente a un punteggio inferiore di Fabio Mariotto. Durante la stessa intervista, ha elogiato Anna Lu, commentando, si è mangiata un arcobaleno. Inoltre, Rossella ha rivelato che la sua relazione con Furkampalali, prossimo al ripescaggio, ha subito un raffreddamento, tanto che al loro incontro durante le prove ha deciso di ignorarlo.